Sarà restituita alla città completamente restaurata la lunetta della Madonna che allatta sul portale della chiesa di San Francesco della Scarpa in via Mazzara. Restauro terminato due settimane fa grazie al neocomitato pro opera Francisci composto da sei volontari. A spiegare il progetto come portavoce uno dei soci Giuseppe Bono. Sabato avremo il piacere di illustrare alla cittadinanza il nostro lavoro cominciato due anni fa con un progetto che oggi abbiamo concluso grazie anche a delle donazioni privati e alla raccolta fondi che il nostro comitato in questi due anni ha portato avanti. Un primo intervento al quale seguiranno degli altri per liberare la città dal torpore in cui si trova. Il comitato ha infatti annunciato che ci sarà presto un nuovo intervento che riguarderà l'intera facciata dell'antica chiesa antecedente all'anno 1000. luogo di culto che fu ampliato ed arricchito da Carlo D'Angio nel 1290, tanto da essere famosa in tutto il regno per la sua maestosità. Inaugurazione quindi fissata per sabato prossimo alle 16, il pomeriggio terminerà intorno alle 18 con un concerto dedicato a tutte le mamme in occasione della loro festa fissata per domenica prossima. Ad aiutare il comitato gli architetti sulmonese Luigi La Civita e Sandra Caroselli. Ad eseguire i lavori invece il consorzio Alcobaleno. Ad eseguire i lavori invece il consorzio Alcobaleno.